Ce la faccio? Posso? No! Vieni qui! Vieni qui! Abbiamo qui il migliore di tutti i calciatori, attenzione! Come pensa di passare questa giornata? Non è ancora finito il momento della preparazione, ringrazio tutto lo staff tecnico, ancora non mi sento al massimo, non ho i 90 minuti nelle gambe, ovviamente cercherò di dare il meglio di me. Non posso fare altro che trovare la motivazione nella parte psicologica, piuttosto che in quella fisica, ma ce la farò. Grazie, scusate, devo andare. Siamo veramente contenti di questa intervista. Numero uno, ma com'è questa roba? Stai ancora registrando? Ma come cazzo si veste questa? Dio cannaio! C'è, questo è stile! Stile, va bene, possiamo fare l'intervista serial alla Fauci per piacere? Sì, è una pausa, ragazza stile!